Mamma mia, sì no, direi che qua va benissimo, bene amici, ciao, benvenuti all'unboxing, quattro amici al bar, cosa è arrivato questa settimana? Guardate qua, un pacco enorme, c'è dentro il monitor 49 pollici di Samsung da gaming ed è uno di quegli step evolutivi che vi dicevo, il primo per la mia postazione sparco da gaming. Ragazzi, da quando c'è l'ufficio sono detto veramente molto meno produttivo, mamma mia, è uno spettacolo, sì, dopo lo sballo, lo monto e ve lo racconto, ma sono particolarmente eccitato a questo giro perché, voi avete già letto il titolo, ho visto la copertina di questo video, ma io in questo momento non l'ho ancora aperto, qua dentro c'è il nuovissimo MacBook Air con il processore M1. Perché sono così eccitato? Perché ho iniziato a vedere recensioni internazionali, blogger ai quali è già arrivato e tutti ne parlano in maniera entusiasta, quindi sono veramente super super curioso, ma partiamo dai pacchi invece di cui non so cosa ci sia dentro, qua, ciao Andrea, taglia lungo questa linea, ci sono anche le istruzioni. L'odore è un po' Ikea, ma anche il pacco è un po' Ikea, eh. Ah no, ok, ci sono, no no, ci sono, ci sono ragazzi, sì, no, questa è una, ah, oh, ma questo, ma fa pandan con il, con l'Air, questa è una start-up di ragazzi che mi hanno chiesto di provare una loro creazione super italiana e allora io lo faccio più che volentieri, sapete, mi piace aiutare le start-up, poi tra l'altro ma come si chiama, Lumarel. Ma grazie a voi team di Garisenda Lab, perché grazie all'artigianato, alla fantasy italiana, anche in questo periodo comunque ragazzi stiamo sopravvivendo e, 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 allora, allora, questa è una postazione per lavorare in piedi. Diciamo che logisticamente sono un po' scomodo. Allora, visto che qua ho il Mac, la metto qua da parte, poi la monto e poi ci piazzo sopra il Mac. Ma, allora, grande ringraziamento a Lego per un'iniziativa veramente interessante che pubblicizzo più che volentieri. No, non metto la DVD da nessuna parte perché non è una sponsorizzazione, assolutamente. Guardate qua, una iniziativa di Lego che donerà 50.000 set ai bambini che ne hanno bisogno in Italia. E la challenge è costruire qualcosa di creativo proprio con questo set. Allora, mi metterò questo weekend con Gabri. Ragazzi, se volete, anche voi, hashtag e tag 50.000 set per i bambini che non possono. Grande iniziativa, brava Lego. Vi confesso una cosa. Vi confesso una cosa che quando Dyson mi ha proposto in prova l'Airwrap, ho detto, ma certo che sì! Perché solo chi è sposato o pesantemente fidanzato può capire la situazione della compagno-moglie che... Sì, a me, almeno Chiara, continua a dire. L'Airwrap, il corrale, le cose di Dyson, ma quanto sono belle, ma quando me le compri, ma quando me le regali? E siccome ha... non riesco ad aprire la scatola e quindi già non parto benissimo, ma sono oggetti comunque molto tecnologici perché qualsiasi cosa faccia Dyson dal purificatore, ne ho appena pubblicata la recensione, alla lampada che tra l'altro ho messo nel mio salotto prima o poi magari ve ne parlerò perché la trovo veramente eccezionale fino a... questo non lo so perché lo farò provare lei ma sono tutti oggetti molto molto tecnologici e quindi per questo Dyson me li ha mandati ma ovviamente come faccio a fare io la recensione di questo affare qua? Vabbè, ragazzi, ci siamo capiti, è molto tech, è molto interessante, Chiara lo voleva, unisco l'utile al dilettevole arriverà la recensione di lei e mia per capire a la tecnologia ma soprattutto a come cavolo funziona con tutte queste spazzole avranno chiesto un prodotto Dyson in prova, saranno curiosi di capire cosa ne pensiamo MacBook Air, eccolo qua, confezione assolutamente uguale alla precedente, anche la scocca versione tra l'altro con 8 giga di RAM, nemmeno quella con 16 e 512 gigabyte di SSD ecco, forse la 16, visto che la memoria è saldata, ha più senso, non lo so, lo proviamo ma forse è meglio provarla invece in versione equilibrata anche da un punto di vista economico anche perché tra pochissimo mi arriverà anche la versione Pro da 13, stesso processore e niente, vabbè, qua c'è poco da dire, la cura delle confezioni Apple non è veramente seconda a nessuno lo sappiamo, si apre con una mano ma ovviamente, ovviamente sì appena aperto, rumorino di accensione lo metto in rete e devo dire il feedback della tastiera è bello, buono display da 13,3 pollici 2560x1600 pixel, 227 ppi ovviamente è True Tone 30 cm, 20 cm, pesa 1,29 kg ma è quello che c'è qua dentro che dicono tutti stupire questo SOC, questo M1 questo è un system, un chip perché ovviamente dentro c'è il processore vero e proprio con processo a 5 nanometri c'è la scheda grafica integrata in Apple dicono la più potente di sempre come anche il chip il più potente di sempre ma la cosa che mi è piaciuta da un punto di vista proprio di approccio di ingegnerizzazione del chip è stato vogliamo creare un SOC con la massima efficienza possibile cosa vuol dire? vuol dire creare un processore che non sia energivore cioè che non mi bruci la batteria da 49,9 watt ora in un'ora e adesso nelle prove vedremo se ci sono riusciti cavo, alimentatore 30 watt in confezione che poi non comprende nient'altro e allora dai subito restore del mio Proda 15 e poi mentre lo fa sballo e installo anche questo dai andiamo il mio Pro sta finendo il backup sempre fare un backup prima di fare qualsiasi operazione sui pc un casino inenarrabile il mio ufficio scusatemi Osmo Pocket 2 prometto che arriverà la recensione a breve che metto qua anzi faccio anche un'altra cosa perché la Pocket 2 con la combo arriva anche con tecla lente grande angolare che ci attacco si mi sembra di stare un po' lì che uno va così due va così ma ragazzi non è troppo semplice porta laptop e mensola porta tastiera o porta quello che vuoi direi che ingegnerizzazione ci siamo mi butto sul monitor prima di tutto devo togliere quello vecchio 34 pollici faccio questo video solamente per ricordarmi quanto era grande ma piccolo in confronto di quello che adesso monterò mamma mia display port collegata alimentazione collegata do fuoco alle polveri che spettacolo che senso di immersività totale con questo raggio di curvatura guardate la mia testa è lì non vedo la di giocare tra l'altro lo faccio vedere dietro si devo fare un po' di cable management devo ancora spostare il pc dietro ma arriverà la recensione di questo monitor probabilmente si vi racconterò sicuramente come mi trovo devo cambiare assolutamente la pedaliera ma ho un mac da configurare adesso ed eccomi qua tra l'altro proverò a lavorare in piedi su questa postazione che permette anche di mettere un pc sopra l'altro non mi sembra assolutamente male non so se lo sapete ma nella cartella di tutti i mac applicazioni c'è anche una sottocartella utility dove c'è questo assistente migrazione tra l'altro di fianco c'è assistente bootcamp sugli m1 bootcamp dimenticate non si può installare windows nativamente ma immagino che le applicazioni tipo parallels di virtualizzazione vadano comunque ok vado avanti chiude le app fa il logout e con questa app migrazione praticamente si può fare una copia uno a uno del vecchio mac sul nuovo mac serve anche per passare dati da windows a mac e come vedete qua vi da le opzioni e io gli dico proprio a un altro mac il problema è un po' comprimere i 4 tera che ho qua sotto nei 512 giga che ho qua sopra ma vabbè visto che si può selezionare in realtà non ho tantissimissimissimi file ma i video non li trasferisco è così dai 101 gigabyte va più che bene lo lascio dentro la porta mi apre? me lo lascio in l'ascensore per favore? bene grazie cosa sarà arrivato? unboxing ma si dai aggiungiamo sto pacco e visto che devo aspettare un'ora e 28 ma lo apro si il mio amico Michele della dispensa di San Felice del Benaco ma cosa ha mandato? sicuramente non un iphone ma siccome allora mi fa piacere aiutare gli amici in difficoltà in questo periodo è un ristoratore ma un ristoratore di quelli che hanno sempre voglia di fare che si inventano sempre cose nuove guardate questo è il suo logo io vado ogni tanto quanto posso perché è sul lago non è proprio vicinissimo a mangiare da lui tra l'altro si mangia da paura si era inventato il track per lo street food si era inventato il cibo di un certo livello ma convenzionato sotto vuoto per andare a cucinarlo al volo e a questo giro visto il lockdown la zona rossa si è inventato di recuperare dei prodotti di altissima qualità da produttori locali e spedirli a chi li vuole quindi caro Michele io faccio l'unboxing di questo che è un cotechino che dicono essere spettacolare parola di Michele Michele se fa schifo poi colpa tua se qualcun altro compra no sono sicuro che sarà eccezionale anche perché c'è proprio la faccia di quello fatto proprio in maniera super artigianale guardate cotechino di maiale tranquillo quindi maiale tranquillo ci sono anche i maiali agitati lui era un maiale tranquillo tra l'altro ho visto sulla scatola mi ha vestito in un'altra roba le istruzioni per l'uso fare tre forellini sparsi immergere in pentola una volta che so bolla lasciare cuocere per cinque delicatissime ore abbondante acqua non salata e ragazzi io sono contro i cotechini precotti perché sono un po' cresciuto a cotechini e zamponi precotti quelli che metti nell'acqua 20 minuti sono nella stagnola le tiri fuori sono pieni di grasso poi ho assaggiato i cotechini artigianali quelli che devono cuocere appunto due tre quattro cinque ore come questo è tutta un'altra cosa perché in quelle cinque ore facendo i forellini nella cotenna nella pellicola che c'è fuori si non è proprio una vera cotenna è proprio una pellicola il grasso esce e la carne dentro rimane veramente saporitissima e anche per assurdo magra quindi viva i cotechini artigianali e viva Michele adesso cioè mi è venuta fame sono le che risuono sono le 13.08 direi che vado a mangiare ci vediamo dopo caro Mac amore guarda cosa ti porto del lavoro per te leggi il brand leggi sopra sì smetterai di dobbiamo fare la recensione io la parte te che tu la parte di come funziona ma soprattutto ma dai ma dai ma dai ma parliamo di cose serie questo lavoro per me un cotechino spettacolo ma quanto pesa eh sì facciamo subito questo ho fame ci vuole un po' questo chissà quante ore deve andare cinque invece è andata così il minestro riscaldato ieri sera mangiata ma neanche nel piatto ma quello l'hai scelto tu non fare la vittima non fare la no assolutamente oggi è una giornata fantastica mi è arrivato un monitor da 49 pollici mi è arrivato il MacBook con l'M1 adesso torno in ufficio e torno a giocare e ti è arrivata la mia minestra buonissima un solo così sì con dentro le castagne però topo brava Chiara comunque ragazzi la minestra veramente buona patate pasta spec castagne top grazie Chiara ma guardate un'ora e mezza torno su e l'air è la copia uno a uno del mio pro di Apple amo anche questo la facilità di passare da un pc all'altro guardate qua tutte le mie applicazioni tutti i miei programmi tutte le mie preferenze anche le icone i file sul destro sono come li ho lasciati ma voglio raccontarvi una cosa secondo me super super interessante apro l'app store cerco facebook e guardate non solo mi dai risultati nelle applicazioni per il mac ma mi dai risultati anche nelle applicazioni per ipad e iphone e io posso aprire facebook per mobile questo è facebook per ios che gira su questo mac perché il processore è un processore arm e non x86 quindi può fare girare tranquillamente le applicazioni per ios visto che ha la stessa architettura vi faccio vedere anche un'altra cosa per esempio vi faccio una ricerca su offerte.club che è quell'app che ho sviluppato insieme ad altri due amici che vi da tutte le offerte che ci sono sul web ovviamente per mac non l'abbiamo sviluppata ci sono i canali telegram se volete guardare su mac ma da oggi con questo m1 guardate posso aprire sul mio mac l'applicazione che è stata sviluppata per ios e funziona perfettamente con anche la possibilità di andare a partecipare al concorso che abbiamo messo in piedi veramente tanta roba questa possibilità ovviamente lo schermo non è touch non essendo touch non tutte le applicazioni e instagram cerco instagram sono compatibili tant'è che ovviamente instagram per mac non c'è instagram per iphone sappiamo benissimo che c'è ma non ce lo fa vedere perché non c'è la compatibilità con giroscopio touch e forse prediligi le applicazioni che sono compatibili con ipad rispetto iphone anche se c'è scritto iphone quindi non compatibilità ancora al 100% ma siamo alla prima release del software e comunque ripeto tanta roba perché tantissime applicazioni girano tra l'altro io lo sto unboxando l'ho configurato e lo sto usando per la prima volta con voi ma nel frattempo guardate è arrivato anche mac os big sur 11.01 quindi poi lo aggiorno nella recensione vi racconterò come va e magari hanno aumentato anche la compatibilità ma un'altra cosa mi ha impressionato adesso vi faccio vedere apro excel apro word apro photoshop apro premiere vpn non mi serve apro telegram apro spotify apro pol tv apro podcast apro musica apro foto apro note apro calendario apro contatti apro mail apro calcolatrice apro firefox apro safari e a riapro l'app store guardate che velocità impressionante cioè ha già aperto tutte le applicazioni queste applicazioni sono aperte e sono utilizzabili non sono aperte per finta guardate ho aperto un nuovo foglio di excel posso aprire un nuovo documento di word se vado in photoshop ovviamente non c'è aperto un'immagine ma come vedete funziona mi stanno arrivando delle mail quindi anche mail funziona premiere provo a aprire magari un template non so perché eh sì non ha trovato il file giustamente perché non ho migrato tutti i file però premiere invece l'ha aperto mi ha trovato il template l'ha aperto posso andare su safari e questo viene aperto tranquillamente provo ad aprire un po' di finestre proviamo a aprire anche che ne so il corriere della sera e tutto funziona in maniera super fluida e super veloce veramente incredibile tra l'altro c'è da fare una considerazione le applicazioni che non sono state scritte nativamente per questo processore beh girano sotto rosetta cos'è rosetta? è un traduttore che si niente che deve tradurre tutti quei programmi quelle applicazioni scritte per la vecchia architettura in linguaggio compatibile con la nuova architettura ma la cosa incredibile è che questo lo fa in tempo reale perché oggettivamente a oggi le applicazioni che sono già native compatibili con questo cioè compatibili no che girano nativamente con questo processore sono quelle di apple quindi quindi safari calendario contatti mail tra l'altro vedete la grafica di tutte queste applicazioni che è stata rivista a me piace decisamente ma tutte le altre e parlo di premiere parlo di photoshop parlo di word parlo di excel non sono ancora compilate per questo processore quindi girano sotto rosetta ma avete visto con che velocità stanno girando veramente impressionante l'altra cosa che mi ha incuriosito è come la community degli sviluppatori si sia subito attivata per tradurre le applicazioni per questo nuovo processore forse perché hanno sudorato la potenzialità perché è veramente non ci sono parole cioè neanche il mio pro probabilmente riesce a aprire così velocemente tutte queste applicazioni insieme parlando di temperature facciamo così appoggio un attimo qui la cam tra l'altro mi sembra che questa osmo si sta comportando veramente molto bene qua sotto è è fresco ragazzi non è per niente caldo non ha ventole quindi super super silenzioso qua sopra anche qua le temperature sono basse banalmente basse quindi non ho molto altro da dirvi mi sta impressionando ovvio lo sto usando da mezz'oretta non è una recensione magari poi mi accorgo che tutte quelle applicazioni che proverò magari di videoconferenza magari autocad magari poi mi metto a montare un video in 4k e va tutto in pappa continua a cresciare quello non lo so ancora ve lo dirò nella recensione completa invece due parole su questa postazione per lavorare in piedi mezz'oretta 40 minuti che sono qua in piedi sento il bisogno un po' di sedermi però voglio dire molto ergonomica molto comoda molto stabile molto sicura un po' ingombrante non amo particolarmente lavorare in piedi sono in piedi tanto mi muovo vado spesso a piedi in bicicletta insomma sono una persona attiva quando lavoro mi piace stare seduto ma devo dire che la postazione è ben studiata quindi ragazzi complimenti grazie ancora per il cotechino e niente oggi è stata veramente una bella giornata anche se quando sotto il citofono aspettavo la Xbox One X vabbè sarà per domani per il prossimo unboxing ciao ciao